caserma dei carabiniere al nuovo comandante, chiamalo appuntato allora io sono nuovo, ho bisogno di capire bene la realtà locale ogni giorno mi vai a comprare il giornale quello che se pare, me lo metti qua, io alle sette e mezza voglio il giornale perché mi devo leggere tutto il giornale e devo sapere tutto quello che succede sono stato chiaro? ogni giorno la copia del giornale va bene, va bene, obbedisco la mattina dopo l'appuntato va all'edicola che non è manco tanto vicina compra il giornale e poi dice però certo che veni tutte le mattine qua non è manco vicino, poi quando piove e quando fa freddo è una bella lottura di palle però in fin dei conti il comandante mi ha chiesto ogni giorno una copia del giornale io sai che faccio? compro 7 copie il lunedì e per 7 giorni gli metto la copia sulla scrivania così ci vengo una volta sola e così fa, ogni giorno comincio a mettere le copie sempre le stesse dopo 5 giorni il comandante lo chiama vieni, vieni, vieni un attimo qua, vieni che ti faccio vedere guarda, 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 guarda poi dicono che noi carabinieri siamo scemi guarda questo, è un ingegnere di Brescia sono 5 giorni che prende la macchina sono 5 giorni che fanno incidente sempre nello stesso posto